In questo libro parlo a un certo momento della superstizione, che cosa sia la superstizione e la magia. La magia, se si può dire, rientra nella superstizione di cui rappresenta la componente pratica. Ci sono delle superstizioni che sono semplicemente delle credenze. La magia non è solo una credenza, è una pratica. Ambe due, sia le superstizioni credenze che le superstizioni magiche, fanno parte dello stesso ceppo. Che cos'è la superstizione? Mi rifaccio alla definizione sempre attuale di San Tommaso d'Aquino. San Tommaso dice, nel suo trattato sulla religione, lui parla della superstizione e dice, la superstizione è un vizio che è contrario alla religione per eccesso. Non perché nel culto divino offra più di quanto non faccia la vera religione, ma perché offre tale culto o a chi non deve o come non deve. Mi spiego ecco. Grosso modo due forme di, o due espressioni della superstizione, cioè la prima consiste nell'offrire un culto a chi non deve riceverlo, un idolo oppure, nel caso del satanismo, al demonio, al quale si offrono dei sacrifici. Il, invece, c'è una forma di superstizione che consiste nell'offrire un culto, ma non più a un destinatario sbagliato, ma in un modo sbagliato. In un modo sbagliato. A volte anche disdicevole nei confronti di Dio, per cui si ripetono delle preghiere affidando l'efficacia della nostra preghiera semplicemente al fatto di dirle, senza stare attenti alle disposizioni interiori, senza stare attenti alle disposizioni del cuore, quindi alle disposizioni spirituali. Basta pregare, eccetera, e la preghiera basta ed è efficace. Oppure accendere delle candele, magari nello stesso giorno della settimana alla stessa ora, per sette giorni di seguito, eccetera, per ottenere un determinato effetto. Ci sono delle persone che si comportano così, perché la superstizione può esistere anche all'interno di una fede cristiana, anche all'interno di una fede cristiana, per cui non ci sono le disposizioni. Questo Santo Maso lo considera come una superstizione, però per superstizione vera e propria abitualmente cosa si intende. Si intende il fatto non di riservare un culto, non di attribuire un culto, ma di attribuire una importanza sproporzionata, trascendente direi, a una cosa che non ha questo potere. La magia consiste nel ricorrere a delle parole o a dei gesti o a delle cose per sortire un effetto che di per sé che non sono queste realtà in grado di sortire. La magia è una specie di trucco, di scorciatoia, di tecnica per sortire appunto degli effetti precisi. Dice un grande, scusate all'inizio un po' complicato, ma poi dopo capirete meglio perché farò tanti esempi. Un grande autore francese, ricercatore francese, un sociologo che si chiama Jacques Ellul, ha scritto un libro interessante intitolato La società tecnologica e lui parla a un certo momento della magia. Dice, la magia si è sviluppata assieme alle tecniche come un'espressione della volontà umana di raggiungere certi risultati di ordine spirituale. Per raggiungerli, l'uomo ha fatto uso di un insieme di riti, di formule e procedure che una volta stabilite non variano. Nell'ambito spirituale la magia ha tutte le caratteristiche di una tecnica. Essa è una mediatrice tra l'uomo e le potenze superiori come le altre tecniche fanno da mediatrici tra l'uomo e la materia. Cioè il ricorso alla magia ha qualche cosa di tecnico. Compio certi gesti precisi, pronuncio certe parole precise e mi aspetto da questi gesti, da queste parole, un effetto. Ecco la magia. Quindi l'essenza, diciamo, essenzialmente tecnica della magia. Quali sono le varie espressioni della superstizione? Ce ne sono, io le ho ridotte a due forme, ecco di, perché bisogna pure mettere un po' di ordine in tutte le superstizioni che ci sono, no? Ci sono le, quello che chiamo le superstizioni passive e le superstizioni attive. Quelle passive sono le credenze, essenzialmente. Le superstizioni attive sono gli atti magici ai quali si ricorre per sortire appunto certi risultati di ordine conoscitivo o di ordine operativo. Di ordine conoscitivo nel senso che se io ricorro le carte mi aspetto di conoscere determinate cose. Se invece faccio un maleficio mi aspetto che possa colpire una persona. Allora, ci sono delle superstizioni passive che sono limitatamente dannose riguardo a una sana religiosità. Ne cito alcune. Per esempio, è diffuso in certe persone la credenza che Dio possa arrabbiarsi, possa dimenticarsi certe cose. Dio non ha mica tempo di occuparsi di me, ha tanto altro da fare come se Dio non fosse onnipotente. Questo è un modo superstizioso di avvicinarci a Dio. È una credenza sbagliata su Dio. In certe regioni, per esempio del Fermano, mi sono letto un libro interessantissimo su gli usi e le credenze dei falerienzi, falerone, Fermano. E' interessantissimo perché ti elenca un sacco di credenze. C'è da ridere anche qualche volta, ma comunque per farvi capire. In alcune regioni, cito questo Bonvicini, l'autore di questo libro, in alcune regioni sono ritenuti causa determinante del loro male gli errori compiuti dai padrini nella pronuncia delle formule rituali del battesimo. Un padrino pronuncia male la formula che gli spetta durante il battesimo di una persona e gli porta male. Comunque, in certe zone, per esempio, porta fortuna incontrare un gobbo, un uomo, quindi, no? Un carico di fieno. Sono invece indici di sfortuna, in ordine decrescente, l'incontrare una cassa funebre vuota, un gatto nero, poveri gatti neri, santo cielo, ma cosa c'entra, no? Sì, incontrare un gatto nero che attraversa la strada, l'incontro con una gobba, donna, porta sfortuna. Incontrare un gobbo non porta sfortuna, mi chiedo perché, ma comunque, una tonaca nera, cioè di un sacerdote diocesano, mentre un frate non dovrebbe portare sfortuna, ecco. Un carico di palia, eccetera. Cioè, varie credenze, insomma, di questo tipo. Oppure, il famoso numero 13 o 17, io sono nordamericano, ci sono dei grattaceri, ma dove manca il piano tredicesimo. Non c'è, passa dal dodicesimo al quattordicesimo, no? Quindi, il mettersi a tavola assieme a 13 persone, ai ai ai, che cosa succederà? O siamo 13 persone, cosa succederà? Poi se è di venerdì, se sono le 13 del pomeriggio, che cosa succederà? No, queste forme di superstizione. Poi, l'attribuire alla civetta, al canto della civetta, ecco, un ruolo di malaugurio, eccetera, queste sono delle forme di superstizioni passive, abbastanza blande. Invece, ci sono delle forme di superstizioni passive molto più gravi, molto più gravi, ecco. Per esempio, il credere che il demonio sia il dio del male, o il principio, un principio del male uguale in potenza al principio del bene che sarebbe Dio. O il credere che tutti i mali che avvengono, o singolarmente, o a livello sociale, siano direttamente causati dal demonio. Questo è superstizioso. Non tutti i nostri mali sono provocati direttamente dal demonio. Ci sono dei mali che hanno una causa naturale, anzi generalmente siamo noi stessi responsabili di buona parte dei mali che dobbiamo poi affrontare. Che poi il demonio cerchi di esasperare le cose, questo è un altro discorso, però non è la causa diretta di tutti i nostri mali. Lì si tratta di una credenza che compromette un sano spirito religioso. Uno si trova a vivere nella paura di vedere il male, il demonio dappertutto e questo compromette senz'altro la tua fede in Dio. Senz'altro. Poi ci sono le superstizioni attive, non più passive, non più le credenze, ma attive. Quindi entriamo qui direttamente nell'ambito della magia. Ricorderete per esempio i romani che consultavano il volo degli uccelli o le viscere delle vittime per vedere l'andamento futuro di una battaglia, prevederlo, eccetera. L'oroscopo è una superstizione ovviamente. c'è chi dice che lo fa per curiosità, ma già il farlo per curiosità indica che appunto sia un po' preoccupati di sapere, insomma. Ovviamente non c'è nessun rapporto ecco tra l'oroscopo e quello che vivrò durante la giornata. Poi riguardo ai famosi segni zodiacali, acquario, eccetera, no? Adesso su questo c'è più discussione. Può darsi, può darsi che il nascere in un determinato periodo, ecco, possa condizionare il tuo carattere. Può darsi, ma non è dimostrato. Poi per me risulta incomprensibile il fatto che anziché affidarsi alla data del concepimento, che non si può ovviamente sapere, ci si affidi alla data della nascita. Perché tutto sommato quello che è determinante nella tua venuta nel mondo e sull'eventuale influsso degli astri non è tanto la tua nascita, il tuo concepimento. No. Hanno fatto comunque un sondaggio, su questo sono gli americani, sono in grado di fare queste cose, in una università americana, hanno chiesto agli studenti qual era il loro segno zodiacale e hanno distribuito a loro il profilo caratteriale corrispondente al loro segno zodiacale. Così, no? Erano due, tre, quattrocento studenti. E la maggior parte degli studenti vedeva una corrispondenza, tutto sommato, tra il loro carattere e il loro segno zodiacale. Solo che non si erano resi conto di una cosa, è che gli autori dell'inchiesta avevano distribuito, avevano mescolato i segni zodiacali e la descrizione del carattere. Per cui a uno, era scritto a uno, diceva ma io sono capricorno? Si dice così? Capricorno, allora gli davano un foglio sopra, era scritto capricorno, sotto la descrizione del carattere, però non si accorgevano ma era la descrizione del carattere che corrispondeva a quello dell'acquario, per esempio, no? Faccio per dire. E tutti, ah sì sì, mi sembra che sia proprio il mio carattere. Vedete che c'è qualcosa che è molto soggettivo in queste credenze. Poi ci sono delle pratiche contadine di guarigione, come la seguente, contro la sciatica, si strofina la parte dolorante, questo sempre nella zona di Falerone, del Fermano, insomma, ma penso che sia diffuso un po' dappertutto. Si strofina la parte dolorante con polvere di coppo per nove sere e pronunciando la formula dello scongiuro lunedì santo, martedì santo, mercoledì santo, giovedì santo, venerdì santo, sabato santo, domenica di Pasqua, che questo male, e lo si nomina, in terra casca. Poi c'è l'uso della goccia d'olio che si fa cadere in un bicchiere d'acqua e a seconda del fatto che la goccia si sbriccioli oppure che rimanga intera, allora si può prevedere se la persona guarirà o meno, ecco, oppure se una persona può soffrire di invidia, eccetera. Va bene. Ancora più vicino alle forme di superstizione attive più gravemente dannose, c'è la figura che molti di voi conoscerete direttamente, forse qualcuno di voi è qui presente questa sera, la figura di coloro che esercitano la magia contadina, cioè soffrite di verrucche, fuoco di Sant'Antonio, allora andate da una persona, e queste persone generalmente sono oneste, non chiedono soldi, sono generalmente di chiesa, queste persone vi segnano pronunciando delle preghiere. Qualcuno potrebbe dire è una forma di guarigione, di carisma di guarigione, non è un carisma, è una forma di magia. Faccio notare che può essere anche efficace, efficace, cioè che sia una forma di magia lo si vede dal fatto che ricevono questo loro potere nella notte di Natale da generalmente un parente, o un genitore addirittura, che consegna loro il cosiddetto libro del comando, che contiene le varie preghiere adatte ai vari mali. generalmente se andate da uno o una di questi, se chiedete loro, perché vedete che le labbra si muovono, pregano, se voi chiedete a loro quali sono le preghiere che stanno recitando non ve lo dicono mica. Io una volta durante una conferenza come questa, dopo la conferenza una signora molto, tra l'altro, molto gentile dice ma io padre guardi io queste cose le faccio da anni. Mi tolga una curiosità le chiedo, ma queste preghiere che cosa sono? Lei mi risponde ma sono delle preghiere normali, ma frammiste a filastrocche. Ma cosa c'entrano? le preghiere con le filastrocche. È una forma di magia. La preghiera è, ti rivolgi a Dio e basta, ti aspetti da lui un intervento, diversamente non è una preghiera. Per cui qui siamo già, ci stiamo già orientando verso una forma di magia abbastanza pronunciata. Vi ho detto che molto spesso sono efficaci, che il fuoco di Sant'Antonio scompare, mica uno scherzo. Io quattro anni fa mentre ero Bologno mi era venuto, tra l'altro, uno dei più alla faccia e i miei contratelli mi prendevano in giro, ma perché non vai a farti segnare? Non ci sono andato. Perché io sono convinto di una cosa, che non si ricorre alla magia impunemente. Per cui se il male ti viene tolto, non ti viene tolto, si sposta. Magari non subito. E comunque si sposta a un altro livello che può fare anche più male. Come quando andate da un mago, effettivamente se non è un ciarlatano, può liberarvi da un male. Però, alcuni mesi dopo, il male vi ritorna raddoppiato. E se ritornate dal mago, anche il prezzo è raddoppiato. Io non penso che si possa ricorrere a queste cose, ecco, in un modo, a queste scorciatoie, a questi trucchi, a queste tecniche, in un modo, in un modo così, con la massima tranquillità. Non mi sembra molto possibile una cosa del genere. Sì. Comunque, poi ci sono le superstizioni attive più gravemente dannose. Queste qui, sì. Più gravemente dannose. In cima alla lista ci sono le forme di magia che sono utilizzate per procurare un male a qualcuno. I cosiddetti malefici. Malefici per causare malattie o addirittura la morte delle persone. Sono, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, delle pratiche estremamente, gravi. L'intento è omicida. Nettamente omicida. Voi dovete sapere che ci sono in media, in Italia, circa 12 o 13 milioni di consultazioni all'anno presso i maghi. Consultazioni, non vuol dire 12 o 13 milioni di persone diverse che vanno, perché la stessa persona ci può andare 10 volte. Però sono 12 o 13 milioni di consultazioni. Una parte abbastanza rilevante di queste consultazioni mirano a procurare un male a qualcuno e magari la morte di qualcuno. Quindi una intenzione è omicida. Questo significa che indipendentemente dall'effetto sortito da queste pratiche, nelle quali credi, alle quali ti affidi, tu sei un omicida. Semplice. Se tu hai l'intenzione di uccidere, sei un omicida. se tu pensi che davvero un maleficio possa provocare la morte di una persona, tu sei un omicida. Ovvio, poi devi pagare anche. Dipende dai maghi. Si può arrivare a delle cifre astronomiche, 50-70 mila euro, 80 mila euro, cose del genere. Queste sono delle pratiche davvero gravemente dannose. E quindi sono le forme di magia tra le più gravi in assoluto. poi ci sono le forme di magia che sono destinate, si pensa, a affrancarti dai limiti della tua condizione umana. Cioè noi viviamo nel tempo e nello spazio. È un limite della nostra condizione. Noi non siamo degli angeli. Io per venire qua ho preso la macchina e da Ancona sono venuto, chiesto spiegazioni sulla strada per arrivare a questa parrocchia, eccetera. Non è semplice, non è immediato. Comunque è un limite della nostra condizione umana. Non siamo degli angeli. un angeli che non ha un corpo. Se vuole essere in una determinata parte, basta che ci pensi. A quel luogo dove vuole operare. E ci si ritrova. Non fisicamente, perché ovviamente non può essere, perché non ha un corpo. Ma ci si ritrova attraverso l'azione che manifesta in quel luogo. solo con la forza del pensiero. Noi non abbiamo questa capacità. Per cui la tentazione è grande di ricorrere appunto a delle realtà che sembrano renderti capace di affrancarti da questi limiti della condizione umana. Pensiamo alle varie forme di divinazione, come le carte. Tu pensi di poter conoscere il futuro attraverso le carte. Tu vuoi sapere come va a finire il tuo esame di maturità, vai dalla cartomante o dal cartomante. Questo indica una tendenza a voler dominare il tempo e anche lo spazio. Un delirio di onnipotenza. Anziché affidarti a Dio. Ok? Oppure ci sono dei gruppi, delle sette. Qual è la differenza tra una grande religione e una setta? Testimoni di Geova, Scientology, eccetera. E che una grande religione non ti prometterà mai di risolvere i tuoi problemi. Mai. Gesù Cristo non ci ha promesso di risolvere i nostri problemi. Non che sia lontano dai nostri problemi. A volte risolve. Però non l'ha mai promesso. Tanto è vero che ci parla del mistero della croce, eccetera. Questo vale anche per l'Islam, per il buddismo, l'induismo, eccetera. Ok. Una setta o, per esempio, un movimento come il New Age ha questa pretesa di risolvere i tuoi problemi. Tu vai da Scientology e loro ti dicono tu hai dei problemi e si affidano delle tecniche precise. Ecco l'auditing, poi uno strumento che si chiama l'emeter, che registra i tuoi impulsi nervosi, eccetera. Con la pretesa appunto di liberarti dai tuoi engrammi, così li chiamano loro, che sono i grovili che uno si porta dentro per il suo vissuto, della sua vita presente, ma anche per il vissuto delle vite precedenti, perché credono alla rincarnazione. Questa è una... questa è la differenza tra una setta e una grande religione. Una grande religione, più che altro, ti dà, o ti dovrebbe dare, offrire, le disposizioni interiori per affrontarli i tuoi problemi. Ripeto, non è che qualche volta il buon Dio non ci metta un naso nei nostri problemi, anzi, però non ci ha mai promesso di risolvere tutto. Meditazione trascendentale. Non so se alcuni di voi sapete che cosa sia la meditazione trascendentale fondata nel 1953 da un guru indiano che è morto quattro anni fa, circa, che si chiamava Maharishi Maeshi Yogi. Questo tizio, praticamente, in India, ha escogitato una forma di meditazione che lui diceva essere adatta a tutti e non solo ai fakiri, ai grandi guru, ai grandi asciti, ma accessibile a tutti. E che consisteva, che consiste, perché dura ancora, nella ripetizione interiore di un mantra. Un mantra è un suono che lui dice, privo di significato, che sprigiona delle energie in te e attorno a te e contribuisce a risolvere tutti i tuoi problemi, di qualsiasi ordine. Questa è la promessa di Maharishi Maeshi Yogi. Lui, quindi, per sei anni è rimasto in India, poi, siccome attecchiva poco, questa sua nuova forma di religiosità, ha deciso di venire in Occidente, dove, dice, diceva, la gente è più aperta. Io avrei usato un altro termine, ma comunque è venuto in Occidente ed effettivamente ha attecchito. È dura tuttora. Non vi racconto tutte le traversie, tutte le, tutte anche, tutti i raggiri. Entrate bene, uno dire in pubblico che un gruppo si basa su dei raggiri il minimo che possa succedere che venga denunciato. Io non sono mai stato denunciato per dire delle cose del genere, anche riguardo ai saintologi e altri. Perché? Perché sanno che se ci trascinano davanti ai tribunali è molto facile dimostrare che si tratta effettivamente di un raggiro. Poi ci sono tanti tipi, insomma, il reiki. Questo è più diffuso, il reiki. Il reiki ha la pretesa di guarire le persone con l'imposizione delle mani. Voi mi direte, ma, per esempio, no, anche all'interno del cristianesimo esiste questo gesto dell'imposizione delle mani. Lo stesso sacerdote quando celebra la messa, no, santifica, oh padre, questi doni, perché, eccetera, no. O nel rinnovamento dello spirito, quando si impongono le mani, no. C'è una bella differenza, però, eh. In ambito cristiano l'impore le mani è un segno di invocazione dello spirito. E chi agisce non è la tua energia personale, ma è lo spirito. Tu lo preghi. Quando il sacerdote santifica, oh padre, questi doni, con lo spirito santo, beh, se il vino e il pane si trasformano nel sangue e nel corpo di Cristo, di certo non è per la forza, la potenza del sacerdote, ma semplicemente perché interviene lo spirito santo. Invece nel reiki c'è la pretesa di rendere la persona capace di guarire con una energia che si sprigiona da lui. Questa energia viene sbloccata durante dei riti di iniziazione, durante i quali si invoca l'energia, una energia che è personalizzata. Nel primo, al primo livello, l'energia che c'è nei tuoi chakras, i chakras sarebbero i punti energetici dell'antropologia hindu, i tuoi chakras vengono sbloccati, per cui la tua energia fluisce normalmente, per cui tu puoi impore le mani. Questo è il primo livello. Secondo livello, guarire, sempre con le mani, ma a distanza. Terzo livello, tu puoi formare altri. Ovviamente questi livelli costano, però è sempre una forma magica. E qui c'è davvero anche un intervento dell'occultismo, dell'occulto. Non sono poche le persone che hanno praticato o subito delle cure, reiki, ecco, cure tra virgolette reiki e che devono poi anche ricorrere all'aiuto dell'esorcista. Questo è un dato di fatto, insomma. Quindi siamo poi, una delle forme più diffuse per sfuggire ai limiti della condizione umana è lo spiritismo. Lo spiritismo. Io ho la pretesa, ricorrendo, ricorrendo a dei mezzi precisi, sono varie forme di spiritismo, ecco, il tavolino ne è una. Oppure la scrittura automatica. La tua mano scrive indipendentemente, senza ricevere degli impulsi dal tuo cervello, scrive da sola. Tu evochi una persona, uno spirito e la tua mano si mette a scrivere. Questo è un modo per evadere, appunto, i limiti della tua condizione umana e portarti ad accedere a un'altra dimensione. Questo è grave, è grave, è una pretesa folle, ecco. Tutte queste forme di superstizioni sono state condannate sin dall'Antico Testamento. Vi ricorderete nel Deuteronomio, non interrogerai i morti, non ricorrerai a maghi, a medium, eccetera. Per quale motivo Dio proibisce queste cose? Per quale motivo lo fa? Tanto più che alcune di queste pratiche possono assortire degli effetti. Qualcuno dice Dio ce lo impedisce perché vuole mantenere per sé tutto il potere. A Adamo ed Eva proibisce di mangiare dell'albero, dell'albero che c'è in mezzo del giardino. Perché lo fa? Perché, lo dice il serpente, se voi ne mangiate, voi diventerete immortali, mangiate. E' lui questo Dio che è cattivo e non vuole che diventiate immortali o che abbiate i suoi poteri. E' geloso dei suoi poteri. Ma il motivo è molto più semplice. Se Dio ci proibisce l'uso di questi mezzi magici è perché noi non vivremmo più da esseri umani. Faccio due esempi concreti. Uno che mi colpì particolarmente, ecco, un uomo che ho conosciuto all'età di 70 anni, si era rivolto all'età di 24 anni a una cartomante nella quale credeva. e questa cartomante gli disse che sarebbe morto all'età di 71 anni. Lui mi ha raccontato che tutta la sua vita è stata vissuta con i 71 anni in mente. Tutta la sua vita. Lui ha organizzato la sua vita in funzione di quella data lì. Ok? E' morto a 71 anni. Io ho la mia piccola spiegazione. E' morto a 71 anni perché è morto di tumore. Perché avvicinandosi la data fatidica nella quale credeva questo ha generato in lui, ecco, uno stress talmente forte che ne è venuto un tumore, una causa psicosomatica. comunque è morto all'età di 71 anni. Quest'uomo non ha vissuto la sua vita in modo normale. Tu vai da una cartomante per sapere se il tuo esame di maturità a giugno o a luglio t'andrà bene. Ok. A supporre che ti dica t'andrà bene. Cosa fai? Smetti di studiare, diventi incosciente, eccetera. Oppure, se ti dice andrà male, smetti di studiare perché intanto andrà male. Non vivi più da essere umano. Se io sono, ho un'azienda e voglio, avrei bisogno di un socio. E mi si presenta a un tizio, ecco, che mi offre la sua collaborazione. No, meglio, mi voglio sposare. Sono alla ricerca della mia anima gemella. Poi un giorno mi si presenta una ragazza che, tutto sommato, mi piace. Sembra disponibile. Però, poi matrimoni, si sa oggi come oggi, insomma... Vado dalla cartomante. Guendalina è una ragazza affidabile? Se io ricevo una risposta affermativa e sposo Guendalina, beh, indipendentemente da quello che Guendalina può manifestare di essere davvero, ecco, negli anni a venire, io la scelgo non sulla base di una fiducia che si acquisisce con la conoscenza reciproca, eccetera, ma sulla base di... sulla parola della cartomante. E io non voglio, voglio sapere, il fatto di andare a consultare una cartomante è un segno di mancanza di fiducia in Dio, come minimo. E' un voler scavalcare o raggirare Dio. Ritorniamo al discorso dell'efficacia. Da che cosa può provenire l'efficacia della magia? Di sicuro non, come accennavo prima, alle pratiche considerate in se stesse. O, per esempio, nel caso della cartomanzia, di sicuro non ha le carte prese materialmente. Le carte materialmente non sono in grado di dirmi che fra un anno mi succederà o ti succederà qualche cosa. Se davvero avviene, non è che la carta in se stessa abbia questo potere. Possibile. Se un mago ti fa stare meglio, non è perché il mago è capace da solo di farti stare meglio per un certo tempo. Quando Sant'Omaso parla dei riti, dei procedimenti magici, dice questo. Nei procedimenti che vengono usati per produrre determinati effetti, si deve, ritorno al discorso di prima, considerare se per natura essi hanno la capacità di causare tali effetti. In tal caso l'azione non è illecita, non è superstiziosa. È un mezzo tecnico. Poiché è lecito usare le cause naturali per produrre gli effetti corrispondenti. Se invece naturalmente non possono produrre tali effetti, Allora ne segue che non sono adoperati come cause, ma come segni. Sono cioè dei segni efficaci. Avete mai sentito parlare dei segni efficaci? Sacramenti. Sono dei segni efficaci. Il pane e il vino consacrati mi nutrono spiritualmente perché diventano il corpo e il sangue di Cristo. L'acqua versata sul battezzando lo purifica dai suoi peccati. Ovviamente l'acqua non è la causa della purificazione. Certo, l'acqua non può purificare un bambino dal peccato originale. Ovviamente no. È un segno efficace, la cui efficacia viene da Dio. È lo stesso per i procedimenti della magia. Sono dei segni efficaci. Allora che cosa li rende efficaci? Dio? No. Non può essere. Se sono efficaci. Non può essere Dio. Qualcun altro. Qualcun altro, sia i grandi santi, Sant'Agostino, Sant'Omaso d'Aquino, dicono che è il demonio. Per cui sia Sant'Omaso che Sant'Agostino, che tra l'altro prende molto da Sant'Agostino, dice che colui che ricorre alla magia, almeno implicitamente, ricorre al demonio. Almeno implicitamente. Perché da solo le carte non possono sortire l'effetto. All'eriguardo mi è successo ad Ancona, ma molti anni fa, ecco, una cosa che è un po' tragicomica. Una ragazza mi avvicina al confessionale, tutta agitata, una universitaria, e mi racconta che, per farla breve, aveva un'amica che faceva le carte e azzeccava. Un giorno quest'amica le dice, ma perché non provi anche tu? Lei ha provato e si è resa conto che azzeccava. Allora, per due o tre settimane, euforia, perché sembrava che potesse conoscere tutto di tutti. Però, siccome gli era rimasto un briciolo di intelligenza, a un certo momento si chiede, ma da chi, da dove vengono queste cose? Dalle carte sicuramente no, da me sicuramente no, allora da chi? Ha fatto una cosa che, per saperlo, che non si dovrebbe fare, che è stupida fare, ma di cui Dio qualche volta, ecco, si serve per suscitare, anche nell'ambito dello spiritismo, far riflettere le persone. Cosa ha fatto? Ha interrogato le carte. Chi mi fornisce queste risposte? Punto interrogativo. Prima carta, sei. Seconda, sei. Terza, sei. Numero della bestia. Lei, spaventata da questo, è venuta a confessarsi. Molto chiaro. Mi ha raccontato anche un amico che, partecipando a una seduta spiritica, una volta, ecco, con il bicchierino. Il bicchierino che si sposta da lettera a lettera, poi forma delle parole, poi delle frasi, eccetera. Evocando un'entità. Il bicchierino, a un certo momento, si è messo, si è staccato dal dito delle persone, due o tre persone che facevano la seduta, e si è messo a girare da solo, poi attorno al tavolo, che era rotondo, in bilico, girare, 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 poi per andare a fracassarsi contro il muro. Queste persone hanno abbandonato questa pratica. Cosa significa questo? Significa che, alla fine, se uno vuole sortire degli effetti, ma nel caso della magia contadina, lì non penso che ci sia qualcosa del genere, ma un mago che si rispetta, comunque. Se vuole, se vuole sortire certi effetti, deve fare, come dicono Agostino e Tommaso, un patto almeno implicito con il demonio. E in che maniera? Rendendo al demonio un culto. E in che maniera? Offrendogli dei sacrifici. La ragazza universitaria che faceva le carte, inizialmente sortiva degli effetti, non era venuto in mente, ecco, che poteva essere il demonio. Se avesse perseverato, lì ne sarebbe stata consapevole. Comunque, come si riesce a ottenere questo potere offrendo al demonio dei sacrifici? Siamo nell'ambito del satanismo, che è una realtà abbastanza diffusa e la cui china, ancora cinque minuti, poi finisco, la cui china è criminale. È criminale. Ci sono vari tipi di satanismo. C'è la forma più innocua, che è il satanismo razionalista, che consiste, sì, nel rendere un culto al demonio, magari facendo una messa alla rovescia, recitando le preghiere cristiane, alla rovescia, oppure Padre nostro, che sei all'inferno, eccetera, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, eccetera. Rendono questo culto al demonio i satanisti razionalisti, però senza credere nell'esistenza del demonio. è semplicemente un modo di manifestare la loro emancipazione rispetto a qualsiasi legge, che sia sociale, che sia ecclesiale o cristiana. Attraverso dei riti satanici loro vogliono proprio emanciparsi da qualsiasi forma di legge. Fai quel che vuoi, questo sia la tua legge, questo è il famoso motto di uno degli ispiratori del satanismo contemporaneo, Alistair Crowley. Comunque questo è il il satanismo razionalista. Poi c'è il razionalismo, scusate, il satanismo che è nettamente occultista, cioè che crede nell'esistenza del demonio, che gli offre dei sacrifici per ottenere dei poteri. questo è grosso modo lo scopo del satanismo. Per cui gli si offrono dei sacrifici e più il sacrificio è grande, più puoi ottenere dal demonio. Sacrifici possono essere di animali, che si torturano, che si uccidono, può essere dei sacrifici umani. E se si tratta di sacrifici umani generalmente sono sacrifici di extracomunitari. Perché un extracomunitario che scompare nessuno se ne accorge. Se è irregolare nessuno se ne accorge. Per cui la polizia non si mette alle tue calcagne. È una forma di satanismo molto pericoloso. Ma ancora più pericoloso il satanismo giovanile. Il satanismo giovanile o acido è caratterizzato dal fatto che non ha una struttura organizzata. È quella forma di satanismo che si sviluppa semplicemente da un punto di vista culturale. Tu andando in certi siti leggendo certe cose sul satanismo ecco ti formi una mentalità o ascoltando un certo tipo di musica ti formi una mentalità satanista. Magari con lo stesso scopo di offrire al demonio dei sacrifici. Però tu non appartieni a un gruppo non appartieni a una setta. Vi ricorderete le tre ragazzine di Chiavenna che uccisero una suora Chiavenna è in Lombardia mi pare ecco giù di lì non facevano parte di un gruppo satanico ma erano imbevute di una cultura satanica e hanno ucciso la suora per offrire al demonio un sacrificio. Questo è il motivo che loro stessi hanno confessato. Questo è particolarmente pericoloso perché è più imprevedibile è più imprevedibile e certi delitti che non si spiegano possono avere come causa questa motivazione satanica o satanista eccetera no? Possibilissimo ci sarebbe molto da dire ecco su 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 questo e anche su per esempio la musica la musica satanista non la musica rock in generale ma la musica satanista di sicuro uno che l'ascolta capendo le parole io suggerirei ai genitori di stare molto attenti a questo perché è indizio come minimo di un interesse ed è pericoloso io mi ricordo di essere andato a fare una conferenza ecco con in una scuola ecco e non vi dico dove e assieme a Don Buonaiuto ecco della comunità Giovanni XXIII Giovanni XXIII e a un certo momento abbiamo parlato della musica satanica c'erano circa 300 ragazzi nella palestra e la maggior parte dei ragazzi erano d'accordo però c'era un gruppetto si vedeva ecco molto agitati ecco di una decina quindicina di ragazzi ecco che facevano riferimento a due ragazze molto influenti si vede ecco che a un certo momento hanno contestato apertamente ma noi lo sappiamo che i contenuti di questa musica sono negativi perché sì effettivamente incitano all'omicidio all'incesto alla pedofilia alla tortura al suicidio eccetera apertamente no? non più attraverso dei messaggi subliminali ma apertamente allora sì noi siamo in un liceo insomma siamo intelligenti capiamo che si tratta di cose che noi comunque non faremmo però la musica che ci piace ok poi dopo la conferenza sono venuti a parlarci in conversazione direi serena eccetera ci siamo lasciati 4 o 5 giorni dopo una di queste ragazze si è buttato dal quarto piano del suo palazzo aveva le cuffie e stava sentendo la musica di un suo gruppo che è vecchio un gruppo satanista i Mayhem un gruppo nordico tra l'altro questi gruppi sempre o quasi hanno una storia di omicidi di violenze di cose o di suicidi quasi sempre lei ascoltava questa musica ecco nella quale appunto c'era un incitamento al suicidio quale offerta suprema da fare a Satana lei si è buttata per fortuna si è se l'è cavata si è rotta soltanto tra virgolette le gambe e il bacino sono cose su cui bisogna riflettere insomma c'è una violenza verbale in queste in queste canzoni che possono suscitare una violenza vera e propria anche riferendosi a quello che è successo a Parigi se tu attraverso la violenza verbale insulti miliardi di persone quello che ha detto il Papa del resto ti puoi aspettare a qualche reazione riprovevole questa reazione finché si vuole però però no ecco e questo tipo di musica veicola una violenza almeno verbale tremenda bisogna stare attenti non penso che uno possa ascoltare questa musica soprattutto se ne capisce il significato come se fosse niente come se fosse l'equivalente di una canzonetta di amore eccetera bella non penso che sia la stessa cosa bene se avete spazio per gli interventi per le domande molto volentieri insomma più o meno di una canzonetta per la città di una canzonetta sull'uomo halloween halloween è una una festa che serve da controaltare alla festa di tutti i santi e che si svolge nella notte nella principale notte in cui i satanisti compiono i loro riti per ottenere dal demonio certi certi loro poteri è un rito è una festa che insordina ma non più mica tanto insordina ecco cerca di inserire di mettere al centro ecco la figura di satana e dell'occulto soprattutto presso i giovani non è anche questa una festa da incoraggiare penso perché come minimo è un abituare i piccoli al macabro come minimo al macabro oppure a sì a parlare della morte in un modo leggero non è non è sicuramente una festa da da favorire anche per motivi così di divertimento la chiesa i paroci e i sacerdoti che cosa propongono in antitesi a questa a questa cosa sì anche questa è una domanda complessa ecco non c'è la soluzione ma la risposta magica no anche qui non c'è la risposta magica io riguardo alla magia comunque come senza altro come esperienza esorcistica faccio sempre presente la presenza del demonio no il quale agisce chiedendo un riscontro a chi ricorre a lui in una maniera implicita o esplicita questo è un dato di fatto non è un voler spaventare le persone ecco se tu fai la magia con la mamma al suo ma se tu esci il lupo cattivo il lupo cattivo verrà a mangiarti eccetera non è questo la magia di per sé se è reale implica la presenza del demonio prima cosa il resto non è semplice perché si tratta di favorire delle persone una spiritualità che implica un rapporto sereno con Dio e con il prossimo e questo non si improvvisa eppure la cosa è essenziale perché ciò di cui abbiamo più profondamente bisogno sono i rapporti interpersonali noi ricorrendo a degli espedienti del genere pensiamo di risolvere dei problemi che in realtà non riusciamo a risolvere penso che il paroco il sacerdote ha l'arduo compito di richiamare le persone a ciò che è essenziale ciò che è essenziale sono i rapporti interpersonali con Dio e con il prossimo e come curarli e come viverli ma comunque non c'è non c'è il trucco non c'è il trucco non è semplice mi dispiace di deluderla vorrei conoscere la sua opinione tra i carismatici e la differenza poi tra sensitivi quindi che vengono chiamati sensitivi e carismatici allora le raccomando la lettura del mio libro carismatici sensitivi e medium va bene allora comunque grosso modo un carismatico è una persona che riceve un dono da Dio un dono che tra l'altro non è stabile può durare il tempo che questa persona serve a Dio per compiere una missione precisa non è una cosa stabile un carisma non è una cosa che tu puoi ottenere a piacimento o che puoi sviluppare con lo sforzo ti viene da Dio mentre la sensitività il sensitivo è colui che pretende di avere delle capacità naturali paranormali per cui entra in un luogo e sente le energie negative eccetera allora lì può contribuire a dono dice lui naturale io nel mio libro la mia tesi è che non esiste una persona capace di produrre dei fenomeni paranormali solo grazie a dei doni naturali queste persone secondo me sono dei medium che si ignorano faccio un esempio preciso di un certo Jacques Beret Michel Beret scusate che cito del resto lui praticamente è dall'età di quattro anni si è accorto che aveva la facoltà della prevegenza prevedeva vedeva dei flash che gli consentivano di prevedere certe cose future lui sin dall'inizio ha creduto che si trattava di una cosa naturale quindi credeva di essere un sensitivo ok diceva come uno nasce con il bernoccolo della matematica io sono nato con il bernoccolo della prevegenza è cresciuto si è non è che abbia utilizzato in maniera tra virgolette professionale questa sua facoltà si è messo a lavorare facendo tutt'altro come lavoro si è sposato ecco solo che a un certo momento ha cominciato ad avere delle difficoltà i fenomeni strani in casa per esempio rumori notturni o mobili che si spostavano da soli ovviamente e questi rumori poi li hanno costretti a traslocare spesso perché di notte i vicini insomma diceva ma questi qua cosa fanno poi ha cominciato lui stesso a sviluppare una tendenza al suicidio molto forte e non aveva nessun motivo tranne il fatto di traslocare spesso non aveva la possibilità di comprarsi una casa tranquilla e aveva una buona moglie un lavoro tranquillo tendenza al suicidio finché alla fine preso dalla disperazione andò a finire da un esorcista e l'esorcista seduta stante gli chiese di rinunciare davanti a Dio fare gli atti di rinuncia riguardo a questa sua facoltà della prevegenza lui seduta stante ha perso la sua prevegenza non mai più ritrovata se fosse stato un dono naturale non avrebbe persa cosa significa lui si è reso conto vent'anni dopo che non era un sensitivo ma un medium e per essere si è dovuto ovviamente essere sottoposto a un cammino esorcistico abbastanza penoso tra l'altro comunque che l'ha affrancato da questa schiavitù insomma il sensitivo è colui che pensa di avere una facoltà in un modo permanente permanente il carismatico no il carismatico prega e se Dio gli concede delle grazie particolari io non ho nessun carisma prego ma non ho nessun carisma particolare ci sono delle persone che vengono e mostrano delle foto ah padre cosa mi dice di questo cosa sente non sento niente non sento niente io prego vedo dalle reazioni delle persone vedevo vedo dalle reazioni delle persone se ci possono avere certi problemi ma non è che scrutando una persona ah ma lei è così e cosa ha energia positiva energia negativa assolutamente no carisma è una cosa molto diversa rispetto alla medianità al medium se voi andate dal medium non so una mamma perde un figlio e per la disperazione ecco cerca di mettersi in contatto con il figlio morto tramite spiritismo va da una medium e glielo chiede non è che la medium gli dirà ma guardi signora queste cose capitano raramente sa perché è difficile no no si segga adesso si segga vediamo fanno la seduta e compare la figlia tra virgolette ovviamente come posso così che è stata un'opera di risultamento anche qui non ci sono le ricette non c'è nessuna garanzia ci sono padre Pio era vessato dal demonio cioè Santa Gemma Galgani è stata posseduta non a lungo ma lo è stata San Don Giovanni Calabria è stato posseduto Madre Speranza sì anche non ci sono ricette ci sono delle vittime e non ci sono ricette però un attimino generalmente non è che Dio permetta questo generalmente se lo permette è per trarne un bene senz'altro maggiore io di fatti alle persone che avevano di questi problemi dicevo guardate quando ne uscirete fuori avrete una marcia in più rispetto agli altri un modo di entrare nel mistero di toccare al mistero della salvezza della presenza di Dio che ti salva questi qua fanno proprio l'esperienza e quando ne escono fuori davvero hanno una marcia in più cioè vedono la realtà ecco da un punto di vista molto più elevato ancora questo è una cosa da sottolineare poi c'è un'altra cosa di cui di cui non ci si dimentica troppo spesso io molto spesso vengo chiamato a fare delle conferenze nelle scuole delle assemblee di studenti perché hanno visto un cim sull'esorcista oppure si chiedono il demonio eccetera perché il demonio attira molto se voi fate una conferenza sul Gesù Cristo dieci persone sul demonio trecento poco ma sicuro a me tocca servirmi del demonio per parlare di Gesù Cristo comunque parlo ecco loro di queste cose e loro sono molto molto interessati però in un certo momento mi dice ma lei è esorcista quindi le possessioni sì va bene ci sono sono dei casi però quello che è importante far capire a loro ma anche a voi è che l'opera più pericolosa del demonio non è la possessione non è la vessazione non è l'infestazione delle case non sono le ossessioni interiori sono le tentazioni quelle sono pericolose una persona può essere posseduta e santificarsi attraverso quella prova ma una persona che a seconda la tentazione rischia di non salvarsi questo è davvero pericoloso ed è di questo che noi ci dobbiamo preoccupare più di tutto no cioè che io posso essere oggetto di malefici eccetera è possibilissimo io mi affido al Signore quante volte un esorcista si sente dire tu morirai da una persona che è in trance che parla con la voce di un altro questi esorcisti continuano a vivere non è che il demonio sia onnipotente come vi dicevo prima il demonio non è il Dio del male è una creatura più potente di noi però se noi siamo nelle mani di Dio siamo nelle mani di Dio e ci capita solo quello che Dio permette che ci capiti e se lo permette vi ripeto è per un bene maggiore proprio anche ultimamente avevo seguito una persona ecco che sì ha avuto dei problemi di questo tipo però mi sono reso conto che in ultima analisi il suo peggior nemico non era il demonio non erano nemmeno le persone che le facevano delle magie eccetera per farla stare male o addirittura per farla morire era la sua paura di essere sempre oggetto di cose del genere mi ricordo che la ricevevo in un salotto e nel centro c'era un tavolino sul quale c'erano delle caramelle anche con lecca lecca si dice e in un certo momento la vedo che fa un movimento verso e sposta ma dico ma se vuole prenda sono lì per questo no no ho solo spostato perché erano incrociati uno che vive nella paura così è molto debole e non si affida a Dio ovviamente diventa facilmente vulnerabile a questo tipo di influenze per cui il vero problema in ultima analisi non erano le persone che le volevano male non era nemmeno il demonio era lei stessa ma guardate sì allora una alla volta anche perché invecchio e rischio di non ricordarmi della seconda cioè quando l'ipnosi è stata inventata se si può dire nell'ottocento tra l'altro anche qui gli iniziatori si interessavano di esoterismo di occultismo mesmer il mesmerismo o il magnetismo queste cose il magnetismo animali la chiesa a un certo momento è intervenuta non per condannare l'ipnotismo assolutamente semplicemente perché c'era chi ne faceva un uso occulto metteva una persona in uno stato di trance e poi la interrogava sulle cose occulte o future era una specie di cioè la induceva in uno stato medianico praticamente di per sé un ipnotista non fa queste cose l'ipnosi serve e serve a ben alto non è lo stato alterato di coscienza che di per sé provoca un intervento del demonio se una persona è sotto ipnosi a scopo terapeutico non è che il demonio possa sfruttare questo stato per infiltrarsi no non avviene questo avviene quando una persona si mette in uno stato di trance per rendersi disponibile a varie entità del resto la maggior parte dei medium e dei maghi fanno ricorso a delle tecniche di induzione di trance o leggera o profonda per quale motivo lo fanno lo fanno perché grazie alla trance leggera o profonda la loro ragione e la loro volontà si trova come assopita e quindi non si corre il rischio di interferire con l'intervento delle entità evocate si diventa disponibile del tutto alla loro influenza tanto è vero che nello stato di trance profonda il medium quando ritorna in sé non si ricorda di quello che ha detto lo deve chiedere ai testimoni cosa ha detto cosa ho fatto e se non se lo ricorda se lo ricordi se lo ricorda è perché la trance non è stata profonda semplicemente l'ultima cosa è quello che riguarda tirare la sola e questo ne parla San Giovanni Crisostomo quando commenta la scelta di quale apostolo mi ricordo Mattia Mattia sì ecco era andato via Giuda quindi era morto Giuda e allora per completare il collegio apostolico tirano a sorte il suo successore Mattia San Giovanni Crisostomo commenta non avendo ancora ricevuto lo spirito santo hanno fatto ricorso alle sorti hanno scelto scritto dei nomi e hanno tirato a sorte il nome pregando Dio di guidare la scelta della sorte questo eh? Gesù era la sorte sì 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 però non era non era ancora ecco disceso lo spirito santo questo è il commento giusto perché dopo effettivamente il ricorso alla sorte non è più avvenuto non si ricorreva più alla sorte comunque guardate se voi vi trovate a dover prendere una decisione non sapete quale o bianco o nero non sapete quale ed è importante indispensabile prenderla mettersi a pregare Dio e dire Signore ascolta io metto qui un bastone nero un bastone bianco guidami non so proprio che scelta fare aiutami sorte non è superstizione in un certo momento uno si affida a Dio non avendo nessun altro mezzo per scegliere si affida a questo mezzo però un attimo è come l'andare nella Bibbia aprire a caso e un attimo io non dico che nella Bibbia uno prima di prendere una decisione uno si legge un passo biblico e può avere davvero un aiuto però la Bibbia non è da considerare come un mezzo magico che ti fornisce le risposte in tutte le circostanze in tutti i modi bisogna stare attenti oh interessante ho dieci pagine nel mio libro ecco su questo allora c'è molta letteratura su questo San Paolo che ha avuto molti sogni non ne parla quasi mai non li ritiene molto affidabili però non nega che possano venire da Dio di fatti Giuseppe vai in Egitto prendi il bambino e sua madre vai in Egitto eccetera durante un sogno Giuseppe nell'Antico Testamento ecco l'intendente del Faraone farà il Faraone? comunque è stato Putifar non era Faraone appunto lui interpretava i suoi sogni lo stesso profeta Daniele interpreteva dei sogni era un dono un carisma ma non era una facoltà medianica sui sogni bisogna stare molto attenti alcuni possono avere un valore soprannaturale davvero io alcuni sogni davvero ne ho sentite alcuni da alcune persone mi ricordo in particolare di una mamma che aveva persa la figlia di leucemia all'età di 23 anni disperata lei stessa praticamente si lasciava morire non mangiava quasi più niente e una notte in sogno sua figlia trasfigurata ecco è apparsa la rimproverata con molta dolcezza eccetera e a partire da quel momento lì quella donna si è ripresa io reputo che quel sogno abbia avuto una causa soprannaturale io lo penso la ringraziamo tantissimo ringrazio a voi 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 che hanno agevolato questo incontro e anche infatti che è intervenuto per prendere questo incontro e per diffondere questa parola del Signore perché padre del mio ha parlato in questa scrittura come di Dio giustamente l'ho detto prima e la parola questa è parola vera la parola contraffatta perché padre della donna è uno spirito gattivo ma il Signore parla di verità grazie e sogni d'oro grazie grazie grazie